Introduzione al teatro barocco Il teatro in Italia Il genere pastorale Il Seicento è considerato il secolo per eccellenza del teatro, grazie ai capolavori che fioriscono in Spagna, in Francia e soprattutto in Inghilterra. Rispetto alla produzione europea, però, la letteratura drammatica italiana di questo periodo occupa una posizione marginale, poiché risulta spesso incapace di allontanarsi dai modelli del classicismo cinquecentesco, nonostante la presenza di alcuni drammaturghi interessanti, come Federico della Valle o Carlo dei Dottori, 1618-1686. Il gusto barocco per lo spettacolo si esprime anche attraverso lo sfarzo delle feste di corte, caratterizzate dalla mescolanza delle diverse arti, letteratura, musica, danza, pittura. Sempre nelle corte, inoltre, si consolida, sul modello di Tasso e di Guarini, il genere della favola pastorale, in cui l'argomento mitologico si mescola con riferimenti allegorici alla realtà del tempo. La commedia dell'arte Nell'ambito del teatro comico, si afferma la commedia dell'arte, recitata per la prima volta da attori professionisti. Si tratta di uno spettacolo che non ha più sede nelle corte e nelle accademie, ma che è rivolto al popolo e che si svolge spesso nelle piazze e nelle strade. La commedia dell'arte, che avrà grande fortuna anche all'estero, prevede l'uso delle maschere, legate a tradizioni regionali, arlecchino, pantalone, pulcinella, e l'abbandono del testo scritto. Alle battute del dialogo viene infatti sostituita una trama essenziale, detta a canovaccio, che consente una più libera interpretazione degli attori, capaci di improvvisare episodi e situazioni sulla base di schemi e tipi prefissati, le maschere appunto. Il melodramma Tra Tardo Cinquecento e Inizio Seicento nasce inoltre il melodramma, inizialmente noto come opera in musica, e oggi comunemente definito opera lirica. Si tratta di un genere in cui si intrecciano tragedie e commedia, danza, musica e poesia. Le sue origini si collocano a Firenze, dove alcuni letterati e musicisti, riuniti nel gruppo della cosiddetta Camerata de Bardi, dal nome del mecenate, il conte Giovanni Bardi, si confrontarono sul rapporto tra musica e poesia. Essi ritenevano che il testo poetico dovesse essere valorizzato il più possibile dal canto di una voce solista e dalla musica. Viene così teorizzata la pratica della recitazione ritmica e intonata del recitar cantando, in cui la musica, composta su armonie lineari e melodiche, ha il compito di accrescere le potenzialità espressive del verso poetico. Il teatro in Spagna Nel cosiddetto Siglo de Oro, secolo d'oro, che va dalla metà del Cinquecento alla metà del Seicento, si assiste in Spagna a una straordinaria diffusione della letteratura drammatica, in cui trovano espressione e le poetiche del barocco. Ai vertici si collocano Lope de Vega, 1562-1635, e Pirso de Molina, 1579-1648, ma soprattutto Pedro Calderon della Barca. Nella commedia La vita è sogno, egli traduce il tema barocco dell'illusorietà del reale, descrivendo le influenze e le ripercussioni che il carattere effimero della vita e dei beni mondani ha sull'esistenza umana. Il teatro in Francia Corneille-Racine La storia del teatro francese del XVII secolo è segnata dalla rivalità fra Pierre Corneille, 1606-1684, e Jean Racine, 1639-1699. Autori anche di commedie, entrambi però eccellono nelle tragedie, tutte di argomento storico-mitologico e rispettose delle tre unità aristoteliche, tempo, luogo e azione, secondo le regole del classicismo rinascimentale. Corneille raggiunge la fama nel 1636 con Il SID, ambientato in un leggendario Medioevo spagnolo, a cui seguono altre opere fondamentali, come Orazio, 1640, Cinna, 1641, Poliuto, 1642, e La morte di Pompeo, 1643. Il successo di Corneille viene offuscato da quello di Racine a partire dalla fama raggiunta da quest'ultimo con il suo primo capolavoro, Andromaca, 1667, a cui segue, nel 1669, britannico. La rappresentazione di due tragedie del medesimo soggetto, Berenice di Racine e Tito e Berenice di Corneille, andate in scena entrambe nel 1670, ribadisce le preferenze del pubblico a favore del primo, che conferma la sua supremazia con Mitridate, 1673, e Fedra, 1677. Molière Il teatro comico francese raggiunge invece le vette più alte con Molière, che pur riprendendo personaggi e situazioni della commedia classica e rinascimentale, mostra un'acuta attenzione agli aspetti culturali della Francia del suo tempo, conducendo una sottile e pungente satire delle convenzioni sociali, di cui smaschere ipocrisie e falsi moralismi. Il teatro in Inghilterra Durante i regni di Elisabetta I, 1558-1603, e di Giacomo I, 1603-1625, l'Inghilterra conosce uno sviluppo culturale senza precedenti e vede l'affermazione del teatro professionistico, con la conseguente nascita dei primi veri e propri edifici teatrali. La scrittura drammatica è sollecitata dalle richieste del nascente mercato dello spettacolo. Il popolo, infatti, assiste numerosissimo alle rappresentazioni teatrali, in un periodo in cui la relativa pace politica interna favorisce l'intrattenimento. I principali esponenti del teatro elisabettiano sono Christopher Marlowe, 1564-1593, autore di Tamerlano il Grande, 1587-1588, e del Dottor Faust, 1588-1593, e Ben Johnson, 1572-1637, poeta, letterato e drammaturgo dalla forte vena satirica. Incontrastate in Inghilterra e in Europa, domina però la personalità di William Shakespeare. Il suo teatro attraverso i generi della commedia, della tragedia e del dramma storico, con situazioni attinte dal passato e dalla contemporaneità, dal reale e dal fantastico, dalla storia e dal patrimonio folclorico, passando dalla leggerezza dei toni delle commedie alla cupa rappresentazione del delitto e del male. Federico della Valle La vita e le opere Della sua vita si hanno poche notizie certe. Nato nell'Astigiano intorno al 1560, dal 1587 vive a Torino alla corte della duchessa Caterina d'Austria, moglie di Carlo Emanuele I di Savoia. Dopo la morte della duchessa, nei primi anni del 600 compie un viaggio in Spagna, mentre verso il 1621 si trasferisce al servizio del governatore spagnolo a Milano, dove muore intorno al 1628-1629. Se si eccettano rime d'occasione e prose di argomento politico, l'attività letteraria di Della Valle si riduce a tre tragedie di cui si erano perse le tracce, sino a quando furono riscoperte da Benedetto Croce nel 1929. Delle due tragedie di argomento biblico, pubblicate nel 1627, Judith è incentrata sulla storia di Giuditta che uccide Oloferne per salvare gli ebrei, mentre Esther ha come protagonista la sposa ebraica del re Assiro Assuero, che riesce a difendere il suo popolo dallo sterminio. Ma da ricordare soprattutto la reina di Scozia del 1628. La reina di Scozia. La tragedia mette in scena un episodio che aveva profondamente scosso l'Europa pochi anni prima. La triste fine della regina Maria Stuarda, cattolica, fatta imprigionare e poi giustiziare nel 1587 dalla regina di Inghilterra Elisabetta I, capo della Chiesa Anglicana. Al di là delle tematiche religiose e politiche, nella tragedia viene rappresentata la condizione umana fragile e indifesa, costantemente minacciata dalla sofferenza e dal dolore. Povera di azione, che risulta pressoché inesistente, la tragedia insiste quindi soprattutto sullo scavo psicologico, affrontando il tema attipicamente barocco, dell'imprevedibilità del destino e della precarietà della vita umana. Assai note la prima scena del primo atto, in cui Maria Stuarda, nel suo ultimo giorno di carcere, ripercorre le proprie drammatiche e dolorose vicissitudini. Attraverso le parole della regina, l'autore conduce una riflessione sul ruolo della provvidenza, a cui anche i potenti devono piegarsi, e sulle altalenanti sorti dei destini umani, che possono mutare imprevedibilmente, determinando il passaggio da posizioni di prestigio e potere a condizioni dolorose e umilianti e addirittura, nel caso di Maria Stuarda, alla morte. La lezione ti è stata utile? Clicca su mi piace. Non perderti poi tutti gli altri contenuti. Iscriviti al mio canale YouTube. A presto! La lezione ti è stata utile?